Aspettate, mi sta vienendo un infarto Oh! Mi sono accasciato a terra Questa mega cassa, zitto zitto In che senso, raga? 8 skip Apre una mega cassa Attenzione Ma raga, ma cosa stiamo guardando? Oggi 3 skip rinnovosi Prego Infatti 3, 2, 1, mettete il volume piano Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video Qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati con un nuovissimo episodio Della reazione alle vostre clip su Brawl Stars Tra l'altro ieri è uscita Colette Quindi forse Colette E' uscita Ambra e magari oggi ne vedremo delle belle Comunque come sempre vi ricordo che se avete dei fail Belle giocate, box super inc incredibili E cose Giù nella descrizione vi lascio il modulo per inviarmi le clip E quindi partiamo subito dalla prima clip Abbiamo Nicky Attenzione con Mortis Che credo stia per fare i devasti Infatti li ha uccisi tutti e tre Amico mio io ti voglio molto bene Ma perché col dito vai così? Mannaggia Comunque a parte questo Attenzione tornano tutti in vita Ma lui fa anche un rimbalzo così tranquilla Spensierata come se nulla fosse Prossima clip per noi abbiamo Top Manu con Amz Ah niente tutti i nemici sono morti Lui E' lì Si ferma un attimo Pensa sul da farsi poi come se nulla fosse E fa un rimbalzino Prossima clip per noi abbiamo un box opening Di non so chi Cassa piccola Niente Mega cassa Attenzione Skip luminoso Vediamo un po' Sì Ah Max Lui 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 Sì 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 Sto cacando Lui è arrivato Dio dell'universo Lui è lui Oh my god Ho una vita benissimo Mamma mia Oddio stupendo raga Come sto male Mi sta partendo Mamma mia Ma che è Aspettate Mi sta piando un infarto Mi sono accasciato a terra Abbiamo la prossima Cosa abbiamo appena visto ragazzi Prossima clip per noi abbiamo GX Light Dritto Che si trova in un panino quintuplo E infatti muore Ah no però c'è il suo compagno No beh si pensava che uscisse da quel panino quintuplo Per carità C'è la tara Niente Sono rimasti in 2v2 Anzi 2v1 Non ho capito sinceramente Cos'è successo dall'altra parte E in realtà Situazione un po' complicata Qua anche perché Secondo me adesso La tara va giù Infatti torna in vita Light Dritto Attenzione La vita è quello che è Ah beh Li ha suonati entrambi E io direi che con questo colpo di classe Nuovamente Attenzione In che senso E non è finita qua Ah no in realtà In realtà è finita là Non ha trovato altro E comunque tanta roba Prossima clip per noi abbiamo Stefan Che ci fa una clip live Tra l'altro Attenzione Contro spike Ah Ah oddio Ah non l'avevo Non l'avevo mai vista Sta cosa Che figata Fammi un po' rivedere Ma sarà voluta sta cosa O io usci da casa Che figo Regà Bellissimo sto bug Andiamo avanti Ora con Oh my god Javit Non Con corrette Manca pochissimo tempo Stanno perdendo E credo che vada a fare Un bel rimbalzino In questo mondo Pensavo facesse cose strane Col gadget del primo Comunque è molto carino Lo spot Si visto rivisto Però è passato proprio In mezzo A bulle del primo Prossima clip per noi Abbiamo B Ciò mi è sembrato di vedere Apre una mega cassa Quattro skip luminosi Gadget di Shelly No raga Mi giuro che se Solo gadget E star power Eccala Eccala Beh 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 Direi cassa Di tutto rispetto Prossima clip per noi Abbiamo lori Che deve andare ad affrontare Questo brock Con ben 11 power up E qua la questione È molto Prossima clip per noi Abbiamo un altro box opening Di Non so chi Qua i nomi Non si vedono Comunque skip luminoso Star power Classico Abbiamo adesso La mega cassa Gratuita Della soia 51 Vediamo un po' Cosa trova Attenzione Ah Guarda ma cosa stiamo guardando Oggi Tre skip luminosi Lui Zitto comunque Vabbè Questa vedere ancora Vabbè Gadget ora Ma non parla lui È muto Rimani imperterrito Perché L'audio è acceso Il microfono è acceso Si sente No mi sa che stava per esplodere Ragazzi Si è trattenuto Comunque tanta roba Prossima clip per noi Abbiamo il mieticottino Gamer con Brock Ha la ulti carica Quindi secondo me Zitto zitto Potrebbe fare cose incredibili E infatti mi è piaciuta Sta place Molto bella Ma riguardiamo Perché prima fa un rimbalzino Per passarsi la palla Col gadget Poi rimbalza anche sul barile Bellissimo raga Prossima clip per noi Abbiamo Gix Kidnight Ma l'audio Ma che è Ma che è sto audio Vabbè Ok Abbiamo una mega cassa Vediamo un po' cosa trova Attenzione La sta apri Ma che era un urlo Quello Ma per No Raga Mi giro troppo fastidio Basta GG Gran box opening Prossima clip per noi Abbiamo Gix Pro Con Shelly davanti alla porta Tranquillo Spensierato Un barrimbalzino E via Prossima clip Abbiamo Anto the devil Oh Finalmente abbiamo una clip Fresca fresca Deve andare a trovare Ambra direi Torna nella stagione vecchia Vediamo un po' La prima cassa enorme Non so quanto ci metto Ah E niente Ha aperto due casse No vabbè Perché queste cose Sono senza Sono senza senso Letteralmente Ma che sta a scherzare Prossima clip per noi Abbiamo Questa culette Con un nome Impronunciabile Che usa la ulti Ma non torna indietro Ma in che senso Scusatemi Cioè La usa Non torna Rimane lì Bug incredibile ragazzi Prossima clip Abbiamo Iman 2 Attenzione Con Brock Che ha la ulti carica Mi sa Ecco appunto Si ferma un po' Ma Perché non si è andato Su col visual Non ho capito bene La dinamica Ma a me è piaciuto Perché ha fatto Questo rimbalzino Si è passato In questo modo La palla Poi non ho capito Se ha fatto rimbalzo Anche da sotto Se ha tirato direttamente Comunque GG Prossima clip Abbiamo Lui Non so il nome Deve aprire Due casse enormi Vediamo un po' Con il solito Brown lag Lag stars Quello è sempre presente Insomma Prima cassa Non ha trovato niente Vediamo Ah no ne ha tre Non due Vediamo qua Cento d'oro Direi che è assolutamente Troppo Scrive lo minoso Beh certo Con cento d'oro Ma cosa Ma raga Manco avesse trovato Un leggendario Ma che è Oddio ho paura Non è che trovo qualcos'altro Ho veramente paura Raga No Prossima clip Abbiamo un altro box opening Apertura di una mega cassa Gradis Con sette skip Attenzione Vediamo un po' Già si parte con gelindo Poi Attenzione Uh Spike Qualche rumore Qua c'è chi urla Per gli epic E chi si trattiene Per ste cose Prossima clip Prossima clip Ha subito così Ma che Ho visto bene Ragazzi Qui fa questo rimbalzo Tattico tattico Ma la palla torna indietro Ma che La fisica qua ha smesso di funzionare Ma che è successo Prossima clip Per noi abbiamo Siamo su Raffa Gemmi Intanto La squadra avversaria Sta per vincere Mancano Tre secondi Attenzione Carre che arriva Distrugge tutto E tutti Ha rotto tutto Niente Alla fine Ha praticamente Alla fine 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 Negli ultimi secondi Lui Puscia Li ammazza tutti E credo che vincano Attenzione Tre contro uno Oddio Situazione un po' Critica Ma no Ma GX Carre Ormai con quella giocata Non può mica deluderci Procediamo ora con Francesco Ok Mi piace Box opening Per trovare Ambra E quindi partiamo raga Cassa Brawl Zì Dovresti andare a vedere Il video che ho caricato ieri Allora Allora lì si vedi Che si arrabbia Come si potrebbe mai dire Comunque mi sa che Sta andando a aprire Prima tutte le casse piccole Infatti 3 2 1 Mettete il volume piano Schermo nero Sì bro E quindi nulla raga Questo era l'episodio di oggi Clip finale Direi Incredibile Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così fossi Vi raccomando un bel like Con iscrizione Campanellina Tattica tattica Noi come sempre ci picchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima